cari mamme benvenuto alla prima puntata della tg di mamme nella rete il primo tg che si occupa della social tv del forum e del blog di mamme nella rete è finalmente online la nuova versione del sito dove voi potrete trovare delle informazioni indicazioni potrete divertirvi potrete emozionarvi guardando i video vostri e anche degli altri bambini tante sono le funzionalità introdotte ma ve le parlerò via via le prossime volte parliamo ora con agostino del nostro nuovo blog ciao lia rivoluzione è la parola data per descrivere il cambio di direzione del blog il nuovo blog di mamme nella rete raggiungibile sempre all'indirizzo blog.mamme nella rete.it presenta interessantissime novità come la struttura ordinata per box che mette in primo piano le notizie più interessanti sul mondo della maternità e le ultime pubblicate per ogni categoria potete anche abbonarvi ai feed rss così da poter visionare tutti i nuovi articoli pubblicati sul blog ed ora parliamo con carola del forum ciao lia il forum di mamme nella rete è una delle novità più rilevanti del nuovo sito ma vediamo meglio come è fatto il neonato forum raggiungibile all'indirizzo forum.mammenellarete.it nasce come ulteriore forma di aggregazione e scambio di conoscenze tra le mamme da voglio un figlio a sono incinta e nato alla crescita il forum affronterà dalla a alla z tutte le dinamiche di una mamma e del suo bambino grazie a tutte le mamme per oggi è tutto vi ricordo di mandare i vostri video sul sito www.mammenellarete.it di tenervi aggiornati sul mondo della maternità interpellando il nostro blog e di farvi conoscere a pieno scrivendo sul nostro forum un bacio a voi e ovviamente i vostri piccoli da mamma lia